Prima il Bari in Coppa Italia di Serie C e poi in campionato esordio casalingo contro la Juve Stabia. Un avvio non proprio facilissimo per la Fidelisandria che dopo i festeggiamenti post-ripescaggio deve subito rimboccarsi le maniche. Lo sa bene il tecnico Panarelli. Premetto che, come tutti noi sappiamo, è un girone durissimo, un girone tosto, un girone fatto di squadre importanti, di grandi blasoni di squadre, di grandi stadi ed è un orgoglio per noi farne parte, di tanti derby. È chiaro che quando si scorre i nomi delle squadre c'è un'esclamazione che magari ti stupisci e quindi non è che una può essere più debole dell'altra, uno può essere più facile dell'altra. Fatta questa premessa, sappiamo di incontrare la prima giornata una squadra di categoria, una squadra che neanche negli ultimi 3-4 anni è stata anche in B, una squadra che punta sempre minimo ai play-off, una squadra che quest'anno è un allenatore di una categoria superiore, l'ha dimostrato nella sua splendida carriera. È una squadra che è abituata a fare questo campionato da più anni e quindi sappiamo di incontrare una squadra organizzata, tosta, una squadra di tutto rispetto.